90 minuti separano la Eurospin Torres da questo finale di campionato, davvero incredibile. Mercoledì una vittoria soffertissima contro Verona, oggi un altro risultato positivissimo perché questo 1-0 alla fine vi proietta lì a giocarvela in una testa a testa contro Brescia. Due protagoniste in quest'annate, abbiamo Daniela Stracchi e Giulia Domenichetti. Sicuramente sono state due partite un po' difficili, un risultato stretto ma io dico che abbiamo qualche defezione, cominciamo a essere un po' stanche perché abbiamo giocato tante partite e soprattutto quando il minutaggio va avanti si fa sentire anche l'attenzione perché sappiamo che i tre punti erano fondamentali, ormai ci siamo, per andare a Brescia a giocarci tutto. Un aereo che aspetta Daniela Stracchi. Daniela, una stagione che ti ha visto protagonista, qualche problema... A metà. Sì, sì, protagonista a metà però ha sempre grande cuore. Quindi 90 minuti per continuare questo sogno, quello scudetto lì sta troppo bene. Vabbè, noi lo stiamo difendendo da tanti anni e cercheremo di difenderlo anche quest'anno, ce la giochiamo all'ultima, non è mai successo, daremo il tutto per tutto come sempre. Questo è lo spirito dell'Eurospin Torres, noi facciamo il più grosso in bocca al lupo chiaramente e speriamo di risentirci alla fine della prossima gara con il sorriso che vi ha accompagnato in questa intervista. Ciao Daniela, grazie. Grazie a voi, ciao. E ciao anche alla nostra grande Giulia Domonichetti, ciao. Grazie a tutti, ciao.